ragazzi benvenuti ci troviamo a rimini al sintonia iphone tra poco inizierà l'evento ma prima di iniziare l'evento facciamo qualche video per i nostri follower qualora non siete ancora nostri follower vi invitiamo a farlo quindi iscrivetevi al nostro canale youtube la nostra pagina instagram tik tok facebook quello che volete è per me un piacere oggi essere qui appunto a rimini insieme a fabrizio di ipad ma soprattutto insieme a ben di etc allora non non vi annoio ancora tanto mi conoscete ci conosciamo parlo passo subito la palla a ben per un piccolo racconto sulla azienda etc e sui diffusori che andremo a provare in questa situazione buongiorno welcome to syntoni hi-fi show my name is ben lily and i'm here with atc loudspeakers atc british manufacturer of loudspeakers loudspeaker drive units and accompanying electronic components were founded in 1974 initially making drive unit components and we've evolved to produce now complete loudspeaker systems active loudspeaker systems and partner in electronics our philosophy is one that starts at component level every atc loudspeaker features drive unit components that are handmade by ourselves our uk factory and we also oversee the manufacturing of the electronics the crossovers the amplifiers the active and the active impact that drive our active loudspeakers we focus on producing loudspeakers that are very neutral with exceptional fidelity that reproduce true feeling and nuances of the original recording ringraziamo ben thank you so much and now ladies and gentlemen fabrizio di ipad eh va bene ci siamo lo conosciamo lo conosciamo ciao a tutti bene grazie di essere qui davanti l'occasione ghiottissima perché alessandro si è tenuto sul vago ma in realtà qui siamo di fronte ad una eccellenza probabilmente ma io esagerò dico grande forse l'unica volta in italia è la prima in assoluto per un evento così grande abbiamo portato un sistema veramente veramente esclusivo siamo parlando di un sistema molto performante molto importante anche dal punto di vista economico ovviamente ma l'eccellenza si sa ai suoi cosi stiamo parlando parliamo dal diffusore abbiamo visto come ben sia ci ha raccontato la filosofia di etc che nasce con un certo parlante per se bus che lo sappiamo lo sapete cos'è etc e non via noi oltre qui abbiamo la scm 150 150 libri che nonostante le dimensioni di questa stanza siamo su 120 metri quadrati la riempie tranquillamente con effetto live diffusore importante probabilmente più grande della serie classiche che può essere definato in situazione attiva oppure passiva qui è la passiva perché l'occasione di ottissima e vi prego di spostarvi grazie ragazzi è quella di riuscire a far performare questi diffusori al meglio possibile e insomma squidino le trombe ragazzi abbiamo qui per la prima volta in italia ripeto il sistema top di gamma di costa elettronica serie ultima la serie referenze quindi con l'ultima pre il pre inquisicatore il due monofonici ultima che sono i top di gamma da 750 watt cada uno ma pesano banalmente intorno ai 70 kg quindi rovetta rovetta diciamo è molto pratica il tutto gestito viene alimentato dal punto di vista del software da un dave che è il dac di riferimento e ovviamente con rune che ci permetterà di far funzionare tutto e quindi di alimentare il tutto condito raffinato dall'emscaler il mitico scaler di rob watts di corda elettronica e quindi l'elettronica sostanzialmente al top di gamma attraverso la connessione che ripeto è sempre un componente dell'impianto connessione studiata insieme con con i partner altri cord company siamo con la serie sarum e tutto caldo sarum dall'alimentazione ai cavi di segnale speaker alla ciabatta alla multipresa ricorrente powerhouse m6 quella con con i filtri attivi antinumore e tutto questo per un risultato al al limite del possibile nel senso che difficilmente probabilmente nella mia nella mia visione è difficile cercare di ottenere qualcosa di più perché veramente poi l'impegno diventa imperbolicamente assurdo tornando ai diffusori la scm 150 l'abbiamo capito l'abbiamo ascoltata la stiamo presentando qui e siamo convinti che sarà uno dei diciamo degli eventi più importanti di questa di questa sintonia senza non la togliere tutto a tutto questo di questa meravigliosa manifestazione questo meraviglioso ambiente diciamo studiato apposta appunto per delle vecchie d'altro quindi che dire la l'impatto iniziale è stato fenomenale iniziamo questa tre giorni e ragazzi da lui ascoltare capire comprendere prendete appuntamento perché il buon Alessandro è sul pezzo per potervi raccontare quello che abbiamo vissuto qui grazie a e allora ragazzi che dire è stato detto più o meno tutto quanto abbiamo lasciato una piccola parte se magari ci volete venire a trovare soprattutto bisogna prendere appuntamento bisogna prendere appuntamento e esperienza personale esatto assolutamente assolutamente grazie grazie e quindi vi rinnovo l'invito a seguirci sui nostri social canale youtube facebook e quant'altro trovate tutto in descrizione eccetera e vi ringrazio inizia tra poco questa tre giorni di sintonia e spero tanto di incontrare qualche follower e sarà un piacere avervi ospiti grazie di tutto e a presto ciao a tutti